La giuria in campo, invitiamo le fattrici, sono due della categoria 7, 4, 5, 6 anni e numeri 51 e 52. La giuria in campo, invitiamo le fattrici, sono due della categoria 8, 5, 6 anni e numeri 51. La giuria in campo, invitiamo le fattrici, sono due della categoria 8, 5, 6 anni e numeri 51. La giuria in campo, invitiamo le fattrici, sono due della categoria 8, 5, 6 anni e numeri 51. La giuria in campo, invitiamo le fattrici, sono due della categoria 8, 5, 6 anni e numeri 51. La giuria in campo, invitiamo le fattrici, sono due della categoria 8, 5, 6 anni dopoestro. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti This program is authored by Grazie a tutti 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 Roberto Ceccaroni, comitato organizzatore in premiazione per le fattrici Ecco che con... Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti